Francesco Totti e Ilari Blasi versano un accordo. Sarebbe in programma un incontro tra i legali. Stando a quanto riporta il messaggero, i rispettivi legali dovrebbero incontrarsi la prossima settimana per cercare di trovare un accordo. Nel frattempo, tra l'ex coppia, sembra esserci tutto tranne che un clima pacifico. Soprattutto dopo l'intervista rilasciata dall'ex capitano della Roma al Corriere della Sera, in cui sostiene sia stata la moglie a tradirlo per prima. Una separazione che sta diventando sempre più un caso mediatico, coinvolgendo sempre più persone. La guerra a Totti e Ilari Blasi potrebbe finalmente arrivare a una fine dopo le frecce decisamente avvelenate degli ultimi tempi. Pare infatti che per settimana prossima sia stato fissato un incontro tra i rispettivi legali con l'obiettivo di arrivare a un accordo ed evitare ulteriori danni collaterali. I punti principali sarebbero lo stop alle dichiarazioni pubbliche, quindi il silenzio da entrambe le parti e un comunicato che metta fine alla vicenda. Grazie.